VL da sogno, Pesaro pazza per il basket come ai vecchi tempi Ferrovia, braccio di ferro continuo fra comune e regione Mille firme contro la torre di telefonia, il comune tranquillizza Il turismo riparte dal basket, 2000 atleti in arrivo a Pasqua Confesercenti alla bit fra celebrazioni federiciane e brodetto fest Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV Che ci seguite sul canale 80, ben ritrovati a Rossini News Telegiornale di giovedì 14 di aprile che apriamo eccezionalmente con lo sport Perché è davvero eccezionale il momento che sta attraversando la VL Che ieri sera ha fatto vivere un proverbiale mercoledì da Leoni ai suoi tifosi Dopo la vittoria sulla Fortitudo che ora dà anche una classifica di cui essere orgogliosi E su cui perché no provare a sognare Alla sirena il tabellone sentenzia Pesaro 88, Fortitudo Bologna 87 Un'altra pazzesca vittoria di misura a distanza di tre giorni Dall'analogo successo con Sassari per la terza vittoria consecutiva che fanno 12 in stagione Numeri robusti convogliati in una classifica da 24 punti Che significa mettere uno sguardo concreto sui playoff E mettere una mano e quattro dita sulla salvezza A quattro partite dalla bandiera scacchi della regular season Ma scaldare la vitrificorena è stato soprattutto un altro numero Quello dei 4963 spettatori Record stagionale dell'astronave Per un vero mercoledì da Leoni Concluso nella maniera più gratificante per i tifosi Che si sono riversati in campo ebbre di gioia Dopo una vittoria in rimonta all'ultimo secondo Contro i rivali di sempre inchiodati ad una salvezza sempre più lontana Quell'obiettivo stagionale invece è sempre più vicino per una VL Che come contro Sassari è costretta a inseguire una fortitudo Che va in fuga fino ad un più 12 Ma Pesero non demorde e sembra trovare ulteriore stimolo Dall'inattesa espulsione di banchi Risalendo la china e arrivando al sorpasso finale Col 2 su 2 dai liberi di Carlos Delfino Io penso che stasera questi ragazzi abbiano dato ai nostri tifosi Un motivo in più per essere orgogliosi dello sforzo che stanno producendo E la possibilità di raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi Io immaginavo che Bologna sarebbe venuta qui a fare una partita Di altissimo profilo, altissimo livello Perché è la loro classifica che lo impone E comunque si parla di giocatori, avete constatato anche stasera Roster di grandissimo talento E quando trovano queste serate è veramente difficile arginarli Poi giocando una pallacanestro così aperta Con tanti potenziali scorer Non ci siamo abbattuti Siamo rimasti lì E la partita, la prestazione per certi versi ricalca quella di soli tre giorni fa Abbiamo costruito la nostra rimonta con una difesa ancora più aggressiva Con una costante presenza a rimbalzo Che ci ha permesso di dominare su entrambi i tabelloni Con Jones assoluto protagonista E con lui e Carlos che non si sono seduti un solo istante per l'intero secondo tempo Considerato che solo 72 ore fa eravamo qui a batterci Devo fare un plauso a questi ragazzi Per la dedizione che mostrano E a tutto lo staff che sta facendo con loro un lavoro egregio E stasera credo sia stata premiata anche la capacità di gestire questa Faccio mea culpa ma sorprendente espulsione Mi fermo a questo per non incappare in provvedimenti Che non farebbero bene a nessuno in questo momento Prima di congedarsi ad una Pasqua che sarà comunque col sorriso Il campionato chiama ad un ultimo sforzo ravvicinato Ai limiti del sostenibile con la capolista Virtus Bologna Che sabato completerà il trittico ravvicinato di gare consecutive Alla Vitri Frigo Arena Credimi non so come ci arriveremo e con chi ci arriveremo Perché onestamente ci sono giocatori che noi stiamo esponendo A rischio che piccoli infortuni possano diventare infortuni più importanti E produrre certi sforzi a distanza così ravvicinata Quindi si preannuncia una partita che già era complicata Per una squadra come noi necessitava avere almeno sette giorni Per poterla preparare adeguatamente E quella che avete appena visto è stata solo una anticipazione Di quello che vedrete stasera in una puntata davvero speciale Di Insieme a Canestro con il nostro Marco Cadeddu Insieme agli ospiti il presidente Ario Costa e Michele Zavagnini Dunque fra poco non perdetevi la nostra diretta Delle giovedì alle 21.20 E cambiando radicalmente argomento proprio ora si stanno concludendo Gli stati generali delle infrastrutture che erano in programma a Palazzo Montani Antaldi e che hanno avuto come tema centrale l'arretramento della ferrovia Stati generali che vi mostreremo domani nella nostra edizione del telegiornale Ma intanto questa mattina il tema è continuato a essere caldo Con un braccio di ferro politico tra comune e regione Perfettamente sintetizzato da un post del sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che vi mostriamo Sono davvero sconcertato Non immaginavo un atteggiamento del genere del presidente Acquaroli Perché è un atteggiamento sbagliato che fa perdere un'opportunità storica alle Marche Intanto non è vero che il potenziamento proposto dal ministro Giovannini Riguarda solo le merci Riguarda i passeggeri e le merci E poi che idea dello sviluppo si ha Ma le merci che escono e entrano nel porto d'Ancona sono importanti oppure no? E dal punto di vista ambientale Più treni significa più competitività ma anche meno inquinamento O vogliamo continuare ad intasare le strade dell'Adriatico Sempre con più tir a gasolio Quindi sono davvero sconcertato Comincio a pensare che la regione sta rischiando davvero di perdere un'opportunità storica 1800 milioni, un miliardo e otto per le Marche La regione che prende di più della costa Adriatica nel potenziamento della Bologna-Lecce Nel quartiere peserese di Soria si sono raccolte più di mille firme per dire no alla maxi torre di telefonia Iliad Che il comune di Pesaro sembrerebbe voler installare proprio in questa zona della città Comune che oggi però ha risposto ai residenti cercando di tranquillizzarli Vediamo il servizio Giù le mani dal parco Il parco di cui parliamo è l'area verde di Soria compresa tra Lungofoglia Caboto, Via Nobiliore e Via Donzelli E a invocare questo giù dal parco sono oltre mille firme dei residenti di questa zona Che si oppongono alla possibilità dell'installazione della torre di telefonia Iliad Prevista da una determina del comune una settimana fa Una situazione venuta allo scoperto grazie all'impegno delle associazioni ambientaliste Che hanno rivelato questa eventualità Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF Residenti che dicono no Che anche ieri si sono incontrati nella sede di quartiere Per confrontarsi sugli ulteriori sviluppi e dicono no per i seguenti motivi Noi appena abbiamo visto questo atto dell'amministrazione ci siamo mossi per raccogliere le firme Ne abbiamo raccolte tante perché siamo contrari all'installazione di questa antenna In questo posto in particolare perché è vicino alle case Vicino insieme alle case dove c'è un parchettino, un parchetto che possiamo utilizzare per noi Per la nostra socialità e proprio ai margini del nostro quartiere Dove c'è un'alta densità di abitazione Abbiamo chiesto di incontrarci con gli amministratori perché intanto loro possono ritornare Sulle loro azioni facendo anche una delibera in autotutela Perché l'amministrazione pubblica può sempre in ogni momento Fin quando non è definitivo il contratto con le società, in questo caso Iliad Ritornare sulle proprie azioni, ripensarci e quindi annullare quello che hanno fatto Noi chiediamo questo all'amministrazione Tenuto conto dei danni che si possono fare installando qui un'antenna di quelle dimensioni Abbiamo detto salute, poi c'è anche l'impatto visivo, ambientale Che naturalmente viene dopo la salute ma è altrettanto importante Mi sento in dovere anche di fare alcune precisazioni La prima riguarda l'attuale amministrazione Che al momento in cui è stato scelto questo luogo per la stazione radio Non c'era, era un'altra amministrazione, c'erano altri assessori Quindi questo per correttezza, per onestà va detto Va detto anche che la scelta è più tecnica che politica Ma a questo punto la gente si pone una domanda È vero che i tecnici hanno seguito alla lettera le regole con le quali si rilasciano queste autorizzazioni Ma la domanda che la gente si pone I tecnici sono dei passacarte o sono persone pensanti? Prima di rilasciare un'autorizzazione, pur con tutte le carte in regola In un luogo come questo, una riflessione i tecnici stessi avrebbero dovuto farla Questa è la prima considerazione La seconda che facciamo, in realtà non è che non vogliamo l'antenna Vogliamo l'antenna nei posti giusti dove non nuoce alle persone Avere una stazione radio qui il valore degli immobili inevitabilmente si abbassa E questo non va bene perché un'amministrazione attenta deve curare sia l'aspetto salutare delle persone Ma anche quello economico Proprio nel tardo pomeriggio di oggi sono arrivate attraverso un comunicato stampa Le rassicurazioni del Comune attraverso l'assessora alla rapidità Mila della Dora Che ha detto come non sia stato rilasciato alcun permesso E come ci si stia relazionando con Iliad per sottoporre soluzioni alternative alla localizzazione In siti non particolarmente vicini alle residenze Il Comune ricorda anche che le valutazioni ARPAM assicurano sull'assenza di danni per la salute Visti i bassi livelli di emissione L'assessora alla sostenibilità Aidi Morotti ha aggiunto che l'eventuale installazione dell'impianto Iliad in Viano Bigliore È conforme al piano comunale dei siti idonei per la telefonia mobile E che anche nell'area scelta non sono presenti vincoli ambientali e paesaggistici all'installazione Assessore che in ogni caso si sono attivate per valutare soluzioni alternative Viste le istanze dei residenti Arriva Pasqua e torna il turismo alberghi riempiti Grazie ai tornei di basket che tornano dopo un biegno di stop per Covid E tornano davvero con grandi numeri Ciao Rudy, ventunesima edizione, torneo femminile Olimpia, diciottesima edizione Dopo un biegno di stop per Covid a Pesero torna la tradizione dei tornei di basket di Pasqua E torna con i suoi grandi numeri 126 squadre iscritte di cui 67 maschili e 59 femminili 2000 atleti coinvolti, 1000 genitori al seguito 295 partite da giocare in 21 impianti Fra Pesero, Vallefoglia, Monte Labate, Vitrifrigo Arena compresa Numeri robusti che fanno bene alla vocazione di basket cittadina e alla ripartenza turistica Ma numeri che potevano essere ancor più importanti Considerato il gradimento nazionale riscosso dalle manifestazioni Finalmente direi perché veramente i numeri sono super eccellenti Perché avevamo annullato il torneo del 2020 Dove avevamo addirittura tra maschi e femmine 180 squadre Il problema è che abbiamo dovuto ridurre i numeri Perché la problematica è che sono legate agli alberghi Quindi potevamo arrivare anche quest'anno intorno alle 180 squadre Abbiamo chiuso a 126 Proprio perché molti alberghi sono chiusi Quindi aprono il primo di giugno per i motivi della guerra Aumenti di carburante, luce eccetera Quindi aprire quattro giorni per molti alberghi non aveva senso Diversi sono in ristrutturazione Quindi con il numero che avevamo abbiamo dovuto fare i conti all'arrovescio Cioè non è che abbiamo detto portiamo 200 squadre e tanti gli alberghi ci sono No, quante squadre possiamo portare, quante alberghi possiamo contare E siamo arrivati comunque a questi numeri Innanzitutto va detto che quest'anno la federazione Oltre ad averci supportato dopo varie vicissitudini Sarà presente appeso con tutto lo staff Lo staff del CIA, il vicepresidente FIP E quindi saranno qui per tutto il torneo presenti E vigileranno anche chiaramente sul torneo Le date sono ormai le classiche Quelle del venerdì santo come inizio E le finali lunedì mattina di Pasqua In modo tale che poi le società verso il pomeriggio Poi possono prendere la strada di casa Siamo abbastanza preoccupati Non tanto per il livello organizzativo Perché ormai abbiamo le spalle coperte Abbiamo le spalle grosse Il problema è tutto quello che c'è dietro Cioè si riapre dopo una Covid E quindi dietro c'è tutta una preparazione per il Green Pass Tutte queste cose qua che sulla carta sembra una cosa semplice Vi assicuro che è una cosa che non si può immaginare Gratificazione, responsabilità e coraggio di ripartire dopo il Covid Ma anche qualche amarezza per i numeri e gli arrivi mancati Se peso vuol fare questo tipo di manifestazioni Si deve rendere conto che anche Gli albergatori devono in qualche modo collaborare Anche se questo può costare un sacrificio Aprire due giorni prima, tre giorni prima Capisco che può essere un sacrificio Può essere qualsiasi cosa Però ci si mette d'accordo Bisogna collaborare Perché non vi nascondo che mi hanno avuto diverse difficoltà L'Apa Hotels, partner dell'iniziativa, fa capire che si è fatto il possibile Il periodo non è dei migliori Siamo in un periodo di ripartenza Noi impegniamo con questo evento circa 15 strutture su Pesaro Molte strutture attualmente stanno completando le ristrutturazioni Per presentarci con nuovi servizi alla nuova stagione Quindi devo dire che a mio avviso è stato un buon lavoro di equilibrio tra le problematiche che ci siamo portati dietro dal Covid e la volontà di ripartire Ci sarà qualche albergo in meno ma ci sarà qualche servizio in più L'Apa come soggetto a fianco degli organizzatori ha proposto e sta sviluppando dei servizi collaterali per tutti gli atleti che verranno Per i genitori che seguiranno l'iniziativa Sono delle convenzioni che noi proponiamo allargando ai ristoranti, allargando alle attività pesaresi E oltretutto diamo anche delle scontistiche e facciamo delle iniziative legate alla cultura Quindi proponiamo in partnership con i musei di Pesaro la visita al museo Con la Sonosfera possiamo organizzare delle visite e abbiamo delle facilitazioni per i gruppi che verranno a Pasqua E organizzeremo il 16 di aprile alle ore 17 una visita guidata gratuita per tutti gli accompagnatori che vorranno partecipare a Pesaro E dunque Pasqua di basket ma Pasqua naturalmente anche di cultura e non poteva essere altrimenti dopo il riconoscimento di Capitale per il 2024 Andiamo a vedere fra Pasqua e Pasquetta quali sono i musei e le mostre in città nel servizio realizzato da Edoardo Razzi Pesaro, capitale della cultura, si prepara ad accogliere una Pasqua all'insegna della cultura Sarà un programma fitto di appuntamenti tra mostre, musei e monumenti che concederà ai cittadini pesaresi l'opportunità di farsi coccolare dalle bellezze del territorio La prima data sul calendario è fissata per domani, 14 aprile, al Palazzo Ciacchi che ospiterà dalle 14.30 alle 18 un evento espositivo dove ci saranno alcuni dipinti e ceramiche dei musei civici E proprio ai musei civici ci sarà un doppio appuntamento con Rembrandt Incisore curato da Luca Baroni con più di 100 opere di un classico dell'arte grafica che per la prima volta arriva a Pesaro e nelle Marche Si continua poi sabato alle ore 10 con la visita guidata a Palazzo Ducale il gioiello di piazza del popolo che racconta la storia della città Da sabato a Pasquetta ci sarà poi un'imperdibile esperienza sensoriale alla sonosfera di Palazzo Mosca l'anfiteatro tecnologico per un ascolto immersivo di ecosistemi e musica E poi, sempre negli stessi giorni, il Museo Diocesano di Palazzo Lazzarini aprirà le porte al pubblico dalle 16 alle 19 mentre al Museo Nazionale Rossini prosegue l'itinerario ROF 15K la libertà dello sguardo immaginario e visivo rossiniano a cura delle Rossini Opera Festival Per il contemporaneo le opere sul tema del corpo e del paesaggio di Renato Bertini saranno esposte dal 15 al 18 aprile al Centro Arti Visive Pescheria mentre allo Spazio Bianco di Via Lungo si potrà assistere alla mostra di Hermanizi dove saranno esposte da venerdì a lunedì opere di grandi dimensioni che riflettono sul ritratto e sul senso di identità E sempre negli stessi giorni sarà possibile al pubblico usufruire dell'offerta museale nella storica sede della Benelli, dove sono esposte 150 motociclette Un percorso culturale che si concluderà sabato, domenica e lunedì dove si potrà visitare nel Parco San Bartolo l'area archeologica e l'antiquarium di Colombarone entrando in contatto con la storia più antica del territorio E festività pasquali anche in bicicletta perché dal 16 al 22 aprile è in programma la quarantesima settimana cicloturistica internazionale organizzata dal gruppo albergatori di Gabicce Mare con la collaborazione del Comune e il patrocinio di Regione e Confcommercio Marche Nord Sette giorni in cui i partecipanti andranno alla scoperta dell'entroterra marchigiano con sette meravigliosi itinerari in cui si percorreranno dai 46 ai 90 chilometri con soste dove sarà possibile gustare i prodotti tipici dell'entroterra La settimana cicloturistica si concluderà il 22 aprile alle 21.30 al Teatro Astra con l'esibizione musicale degli Stralunati lo spettacolo di danza di Stella Show Dance e la premiazione delle società vincitrici La serata sarà aperta alle 20.45 dalla inaugurazione del Teatro Astra che torna operativo dopo essere stato riqualificato Da martedì 19 a domenica 24 aprile lo spettacolo teatrale scritto da Maurizio De Giovanni Il silenzio grande diventato anche un film presentato all'ultimo festival di Venezia giunge al Teatro Sperimentale di Pesaro Scrittore napoletano di fama internazionale De Giovanni è autore di numerosi libri poi diventati note serie tv come I Bastardi di Pizzo Falcone, Il commissario Ricciardi e Mina Settembre Questa commedia prodotta dal Teatro Diana di Napoli vedrà come protagonisti Massimiliano Gallo, Stefania Rocca e Pina Giarmanà guidati dalla intensa e originale regia di Alessandro Gasman La locandina che vi mostriamo ora riguarda invece la 58esima mostra internazionale del nuovo cinema che si svolgerà a Pesaro dal 18 al 25 di giugno Locandina dell'artista Wall-E alias Thomas Marcuzzi che ha realizzato anche la sigla del festival che vi mostriamo Grazie a tutti E torniamo anche oggi ad occuparci della bit con le nostre telecamere che sono state presenti alla Tre Giorni Milanese al fianco della regione Marche Ieri vi abbiamo mostrato alcune anticipazioni nel nostro telegiornale Ne faremo altre con gli speciali che potrete vedere domani sera e domenica alle 21.20 E ora vi mostriamo un altro approfondimento Quello che riguarda le proposte della Confesercenti andate in scena alla bit e che vengono sintetizzate nel nostro servizio realizzato da Emanuela Rossi Grande successo all'interno della Kermess milanese della Bit Borsa Internazionale del Turismo nello spazio riservato a regione Marche per la Confesercenti Pesaro Urbino che ha presentato il progetto di accoglienza turistica sugli itinerari dedicati a Federico da Montefeltro promossi con il supporto operativo di Raffaello Travel Group e il patrocinio di Comune di Urbino e Camera di Commercio delle Marche È la prima delle proposte federiciane individuate da Confesercenti per celebrare i 600 anni dalla nascita del Duca come ci spiega in questa prossima intervista il direttore Confesercenti Pesaro Urbino Alessandro Ligurgo Diciamo che nel nuovo corso di Confesercenti cominciamo a promuovere anche fortemente un po' tutte le nostre manifestazioni, le nostre idee, i nostri progetti primo tra tutti non posso non ricordare il nostro brodetto con il fuori brodetto quindi il festival internazionale, il brodetto fest che è una cosa fantastica ormai lo sappiamo tutti, è giunta la ventesima edizione con ulteriori novità c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire dai personaggi che vengono a frequentarlo fino anche al modus operandi del brodetto e in più poi abbiamo anche qualche chicchettina qua e là da presentare, da far vedere è fondamentale per noi esserci perché essere qui vuol dire noi imparare anche qualcosa da quello che possono essere anche le altre regioni le altre manifestazioni e lo spirito un po' con cui si entra in questo circuito dall'altra parte però anche promuovere il nostro territorio che non è solo la provincia di Pesaro ma è un po' tutta la filiera della zona delle Marche quindi dal Parco San Bartolo fino a San Benedetto del Tronte Ascoli noi ci siamo, ci vogliamo essere e ci dobbiamo essere partecipiamo con il comune di Fano in questo caso con il brodetto fest perché lo dicevi tu prima è una manifestazione che è importante non solo localmente per il comune di Fano ma ormai è diventata una manifestazione internazionale, veramente internazionale l'anno scorso sono venute persone dagli Stati Uniti quindi anche giornalisti degli Stati Uniti, il New York Times è venuto a trovarci è stata una bella visita è una manifestazione che ormai ha un carattere di internazionalità fantastica racchiude un po' tutto quello che è la marineria già fanese quindi partiamo dal peschereccio fino ad arrivare alla tavola imbandita il pescato arriva in tavola con 30 ristoratori convenzionati dopodiché nell'ambito della manifestazione abbiamo cooking show fatto da chef stellati abbiamo degli amici del brodetto fest tra l'altro abbiamo delle concatenazioni con tutto il resto quindi diceva bene prima Etienne il bianchello il bianchello che è il nostro vino del territorio che è fantastico anche quello bisogna starci attenti e abbiamo poi adesso il contest della bevanda che è caratteristica di Fano che è la moretta la moretta io lo chiamo un cocktail perché è fatto di diversi ingredienti molto buono e tutti dovrebbero provarla perché effettivamente è fantastica anche lì c'è un contest con una gara a chi lo fa più buono diciamo che nasce come brodetto poi alla fine diventa diventa esatto un cosmo nel quale ci si può sicuramente star bene sotto il profilo neogastronomico ci si può divertire e si può fare anche un po' di cultura come dicevamo mi dai le date 9, 10, 11 settembre di quest'anno la manifestazione esatto però non finisce lì perché dopo abbiamo anche il fuori brodetto è un'ulteriore manifestazione dove si potrà gustare sempre nei ristoranti convenzionati il nostro brodetto ha prezzi sempre calmierati e convenzionati molto molto bello da vedere e da provare visitiamo anche i nostri ristoranti vogliamo dire anche quali sono gli altri progetti magari in ballo? non li vorrei spoilerare adesso è una parola che si usa adesso non li vorrei però diciamo che ce n'è una che è legata profondamente al compleanno di Federico quindi di Urbino faremo una cosa molto carina molto già fatta bene già sistemata e messa a punto che però presenteremo con voi magari fra pochi giorni abbiamo aperto il nostro TG con lo sport e con i trionfi del basket ma è davvero un weekend prepasquale intenso anche per quello che riguarda calcio e calcio a 5 la Vispesero torna in campo già questa sera alle 21 in casa del Limolese una delicatissima penultima giornata perché se la Vis dovesse vincere di fatto conquisterebbe il playoff viceversa perdendo rimetterebbe tutto in discussione di fronte avrà un avversario disperato come l'Emolese che da penultima in classifica ha bisogno di battere i pesaresi per evitare la retrocessione diretta per quello che riguarda il calcio a 5 dopo la sosta torna in campo anche l'Ital Service domani sera nel classico match con i rivali del Pescara si giocherà alle 20 al Palafiera concludiamo il nostro telegiornale con lo sport e continuiamo la nostra prima serata ancora con lo sport come vi abbiamo anticipato la nostra prima serata sarà dedicata ad una puntata da non perdere di insieme a Canestro la nostra diretta dalle 21 e 20 con il nostro Marco Cadeddu che questa sera avrà come ospiti il presidente della Carpegna Prosciutto Pesaro Ario Costa e il giornalista e opinionista Michele Zavagnini e poi vi aspetto domattina per la rassegna stampa Buongiorno Rossini il nostro appuntamento con uno sguardo sui quotidiani locali come sempre in diretta dal lunedì al sabato alle 7.20 ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV